Un anno santo straordinario sul tema della misericordia, lo ha annunciato ieri a sorpresa Papa Francesco. Le celebrazioni dal prossimo 8 dicembre al 20 novembre 2016. Attesi in Vaticano milioni di fedeli. Roma si farà trovare pronta per il giubileo, assicurano il sindaco della capitale Marino e il premier Renzi. La crisi ha modificato le abitudini alimentari degli italiani e quanto emerge da un'analisi della Col di Retti sulla spesa a partire dal 2008. Crollato il consumo di prodotti della dieta mediterranea dall'olio di oliva, meno 25%, al pane sceso al minimo storico dall'unità d'Italia. Omicidio in strada ieri sera a Colleferro in provincia di Roma. Vittima un uomo albanese di 28 anni ucciso con una coltellata al torace. Indagano i carabinieri che stanno cercando di rintracciare eventuali testimoni dell'agguato. Operazione della Polizia Postale di Palermo contro lo scambio tramite internet di materiale pedo-pornografico. Arrestati un 19enne della provincia di Agrigento ed un 44enne del Napoletano colti in fragranza di reato. L'Expo non è luogo di scandalo ma sfida per il futuro, così il premier Renzi ieri in visita al cantiere a Milano a poco più di un mese dall'inaugurazione. L'esposizione universale però è stata terreno fertile per criminalità e corruzione. Negoziare con l'Isis almeno per tutelare i bambini. L'appello è dell'Unicef sulla scia delle notizie sul loro uso in guerra. Tra queste il caso del bimbo, pare francese, ritratto mentre uccide una presunta spia israeliana. C'è subito la prestigiosa firma di Lewis Hamilton nelle prime qualifiche stagionali del Mondiale di Formula 1. Il campione del mondo conquista la pole position del Gran Premio d'Australia davanti all'altra Mercedes di Rosenberg. Terzo Felipe Massa su Williams, quarto e quinto crono per le Ferrari di Vettel e Raikkonen. Domani la gara alle 6, ora italiana.